Ciao a tutti ragazzi, no non sono il capobastone, sono Gaspsbooster e benvenuti nel mio nuovo episodio delle avventure in survival. La texture pet che uso non funziona con la nodus tra un po' la sistemo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho tagliato un pezzo e ho sitemato il problema riguardante la texture pet. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riesco a trovare quella caverna, o canyon, in cui ho trovato molti materiali. Sto cercando la caverna come un forsennato. Non riesco a trovare quella caverna. Ragazzi, ho commesso un fail enorme. Ho esplorato una caverna vicino al canyon e mi sono accorto alla fine che non stavo registrando. LOL Comunque vi posso dire che ho trovato una caverna vicino a trovare la caverna, in cui ho trovato un dulgeon di ragni. In una puntata successiva cercherò di fare una farm di esperienza. Beh, per questo episodio non è un'altra cosa che ho trovato una caverna vicino a trovare la 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 caverna. E allora... Grazie a tutti